La bolletta del gas sul mercato tutelato aumenta del 12% ad ottobre rispetto a settembre. A renderlo noto è Arera, l'autorità pubblica dell'energia che fissa le tariffe di luce e gas sul mercato. L'aumento è dovuto all'incremento del costo del gas naturale, un più 7,9%, e l'aumento della spesa per il trasporto e gestione del contatore. Rimangono invariati gli oneri generali, pesano sui prezzi, i primi freddi che fanno aumentare i consumi e lo scenario di guerra medio orientale che indubbiamente impatta sui prezzi in Europa. 10 milioni di utenti sono interessati dagli aumenti e indubbiamente anche la nostra regione non è esente dai rincari. Per una famiglia tipo che consuma 1.400 m3 all'anno la spesa sarà sui 105 euro l'anno. Da gennaio inoltre dovrebbe terminare la possibilità di accedere al mercato tutelato, ma si attende una possibile proroga. Insomma, tante preoccupazioni, soprattutto da parte delle persone che percepiscono la pensione e che devono far fronte a spese sempre più alte in bolletta. Come si vive questi aumenti sensibili? L'aumento delle bollette è un aumento. Se lei considera un attimo come ci muoviamo, siamo aumentati in tutto. Adesso le bollette saranno aumentate del 30 o del 40, ma le altre cose sono aumentate del 20 o del 25. E' duretta. E' tutto un insieme. Pensavamo meglio, sinceramente. Ad un certo periodo della nostra vita, pensavamo andrà meglio, invece no. Sono aumentate sia la bolletta della luce, sia la bolletta dell'elettricità. Non so che dire. Sono cose che preoccupano. Il prossimo anno ci sarà libero mercato, allora vedi come subito mandano un'aletta, puoi fare equipaggio, però non puoi andare da loro. Tutto tramite... Ti chiamano loro? No, no, tutto tramite internet si deve fare. Io ce l'ho, ma non esagerato, guardi. Insomma, però qualcosa, sì. Però insomma, una volta è divisa via, è anche sapere, avere un chiarimento e vedere. Sì, è vero.